Sono Paola Orlandi della Orlandi Pasticceria, ci troviamo qui a Cazorate dal 79 quando è arrivato mio padre con una pasticceria praticamente tradizionale da quella che era la sua gavetta milanese nelle pasticcerie di Milano e noi qui portiamo avanti la sua tradizione, produciamo paste fresche ogni giorno, torte fresche anche su ordinazione, varie tipologie di torte, possiamo partire dalle classiche chantilly alle tartufate col cioccolato, le torte a base di crostata, la nostra frolla infatti è molto famosa, le paste di mandorla, le creme cotte, le sacchere e così via. Inoltre prendiamo ordinazioni per tutto quello che è il tailor made, ossia la cerimonia, quindi dai battesimi alle cresime, comunioni, le wedding cake che possono essere dalle più tradizionali a quelle più sfarzose, a piani come vanno di moda oggi e poi abbiamo implementato tutto quello che è la nostra produzione tradizionale con produzione di pasticceria per intolleranze, quindi senza glutine, senza lattosio, per vegani, sempre tutto su ordinazione preferibilmente perché essendo solo prodotti freschi abbiamo bisogno appunto di un minimo di tempistica per la lavorazione. Ultimamente abbiamo deciso di effettuare anche il servizio di consegna a domicilio, se necessario cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei nostri clienti. Trovate nella nostra pasticceria durante le varie festività, oltre alle torte dedicate, anche varie tipologie di cioccolato artistico, ossia soggetti che possono andare dai baffi di cioccolato per la festa del papà, le cartoline per la festa del papà, i cuori per la festa della mamma o per San Valentino, le nostre ormai famose uova di Pasqua e tutto quello che riguarda il Natale naturalmente. Uno dei nostri cavalli di battaglia è la pasta sfoglia, infatti il nostro prodotto di punta è il cannoncino di pasta sfoglia ripieno di crema pasticcera o di tutte le creme che vorrete voi anche su coordinazione. Noi infatti facciamo la sfoglia come la faceva mio padre, abbiamo mantenuto la stessa ricetta e li facciamo ancora tutti quanti a mano come tutta la nostra pasticceria. Quindi se volete assaggiare le nostre prelibatette e i nostri prodotti artigianali veniteci a trovare, noi vi aspettiamo con un sorriso. Grazie a tutti!